Alimenti ricchi di iodio per migliorare la salute della tiroide Alimenti ricchi di iodio per migliorare la salute della tiroide Oltre ad apportare più della metà della quantità giornaliera di iodio raccomandata, lo yogurt bianco vi aiuta anche a migliorare le funzioni intestinali, ristabilendo la flora batterica. 1. Condividere. Lo iodio è un minerale essenziale per il corretto funzionamento della tiroide, la cui alterazione ha un impatto negativo sulla salute generale del corpo. La tiroide ha il compito di immagazzinare i minerali essenziali per la sintesi degli ormoni tiroidei, la cui funzione è quella di regolare il metabolismo, la disintossicazione e la crescita. La mancanza di iodio nel corpo comporta lo sviluppo dellipotiroidismo, ovvero la diminuizione della produzione di ormoni tiroidei. Questo squilibrio causa gravi conseguenze nel corpo tra cui laumento eccessivo di peso, sensazione di stanchezza e irregolarità del ciclo mestruale. Fortunatamente, alcuni alimenti contengono iodio in quantità significative, evitando la diminuizione dei suoi livelli nel corpo. In questo articolo vi mostreremo alcuni alimenti che potete assumere con frequenza per rifornire di iodio il vostro corpo. Mirtilli grazie alla loro abbondanza di antiossidanti, i mirtilli sono uno dei frutti più indicati per la salute del corpo. Si stima che 4 chicchi, 113 gr, di questo frutto apportino fino a 400 barra mcg di iodio. Assumerli in modo regolare aiuta il metabolismo a regolare il funzionamento della tiroide. Vi consigliamo di mangiarli allo stato naturale, ovvero in insalate o frullati. Yogurt bianco Lo yogurt bianco è uno dei probiotici naturali più potenti e salutari che si possano includere nella dieta. Questo alimento contiene poco più della metà di iodio necessario ogni giorno al nostro corpo, più o meno 90 barra mcg a tazza. Inoltre, aiuta lintestino a ripristinare la flora batterica prevenendo malattie virali. Sale dell'Himalaya Molte persone stanno provando a ridurre al massimo il consumo di sale, cercando di assumere la quantità necessaria di iodio da altri alimenti. Un'alternativa sana e completa che sostituisce questo alimento è il sale dell'Himalaya. Questo sale fornisce 250 mcg di iodio, cioè più del 150 della quantità giornaliera raccomandata. Ovviamente, come per tutti gli altri tipi di sale, è importante moderarne il consumo per evitare effetti indesiderati. Baccalà. Il baccalà è uno dei pesci più ricchi di acidi grassi omega 3, vitamina E e minerali come il potassio, il calcio, il magnesio e lo iodio. Ha un basso contenuto di grassi e calorie ed è anche uno dei migliori complementi per una dieta sana e benefica per la tiroide. . Ogni 85 grammi di baccalà apportano 99 microgrammi di iodio, cioè circa il 66% della quantità giornaliera di cui necessita il corpo. Fragole Questi frutti sono deliziosi, versatili e contengono nutrienti essenziali che rafforzano il sistema immunitario. . Oltre ad essere dolci, risultano appropriate a migliorare la salute della tiroide grazie al loro significativo apporto di iodio. Una tazza di fragole contiene 13 mcg di iodio, più o meno il 10% della dose giornaliera raccomandata. . Fagiolini I fagiolini sono una verdura sana da aggiungere in qualsiasi dieta. Il loro consumo regolare garantisce al corpo piccole quantità di iodio che possono essere utili a stimolare il funzionamento della tiroide. . Mezza tazza di questo vegetale apporta 3 mcg di iodio, cioè circa il 2% del valore giornaliero raccomandato. . Fagioli bianchi I fagioli, di tutti i tipi, sono un alimento molto adatto a qualsiasi dieta. Senza dubbio, la varietà bianca è considerata la migliore per regolare la funzione della tiroide grazie al suo apporto di iodio. . Mezza tazza di questo tipo di fagioli contiene fino a 32 mcg di iodio e poche calorie, inoltre, sono ottimi per la digestione grazie al loro incredibile apporto di fibre. . Patate La patata comune è uno degli alimenti più consumati al mondo ed è anche una delle maggiori fonti di iodio che si possano trovare nel regno vegetale. Una patata con la buccia e cotta al forno apporta circa 60 mcg di iodio. . Inserire questo alimento nella dieta è uno dei modi più sani di apportare iodio all'organismo, soprattutto alla tiroide. Questo minerale non viene prodotto naturalmente dal corpo, quindi è importante introdurlo attraverso l'alimentazione. .